Via ai controlli in centro sull'utilizzo delle mascherine. L'ordinanza firmata venerdì dal sindaco Alessandro Ghinelli come misura di contenimento per una pandemia che sta facendo di nuovo tremare l'Europa impone l'utilizzo del presidio medico sia nei giorni prefestivi come il sabato sia in quelli festivi almeno fino al 9 gennaio. La polizia municipale a cui spetta il controllo ha iniziato subito a girare in centro e con estrema disponibilità a spiegare a chi non lo avesse inteso come deve essere indossata la mascherina ovvero come e dove. Nella giornata di inaugurazione delle iniziative natalizie anche l'assessore Simone Chieri ci ha commentato il provvedimento. In altre parti d'Italia e direi d'Europa la situazione è un po' diversa. Noi siamo ancora fra virgolette un'isola felice, cerchiamo di restarci, l'ordinanza del sindaco va in questa direzione, raccomandiamo la massima prudenza a tutti e speriamo di arrivare in fondo al 9 di gennaio senza nessun problema.